E' freddo? Ci segue, a me piace viaggiare da solo. Sempre che venga. Viene, viene. Viene, viene. Viene, viene. Viene, viene. Visto che ci siamo tutti possiamo cominciare. Allora, ci siamo annusati, ci siamo ringhiati contro e alla fine siamo giunti alla conclusione che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Quindi, abbassiamo la cresta tutti quanti e vedremo di trovare questo accordo. E' come no? La proposta mia è questa. A Steccatua rimane quella di prima e a zona del Libanese rimane a Donatella. Mi pare giusto. Io ho solo un'altra richiesta. Io credo che è arrivato il momento che tu te ne vai a fare un guido. Senza rancura. Io ho solo un'altra richiesta. Io ho solo un'altra richiesta. Io ho solo un'altra richiesta. Fai tutto apposta. Bene. Ci siete proprio tutti, eh? Sta banda non si scioglie con un par di vaffanculo. Sì, ma ora dame se è una mossa che qua tocca a fare la polizia. Chi lo fa la testa? Quella è la testa. No, questi sui piedi. Adà, la prossima volta il posto lo scegliamo noi, eh? Magari armare. Una bella pietra al culo. E tanti saluti. E che ve devo dire? A me al certo questo posto ci piaceva. E che ci avrebbe questo posto tanto speciale? Aria di casa. Ricordi. Adà, mi sa che ti sa capire da solo. Capito. Prima sto cazzo di lavoro. Ecco, così finisce chi voleva spasciare la banca. Quanto ci metterà la camorra a fare se viva? Una settimana al massimo. Qua si ritroveranno con un chilo da coca sul gruppone. Il sardo finito chissà dove. E i vecchi amici romani pronti ad aprire il dialogo. Alla fine magari ci scappa pure uno sconto. O magari ci piantere una palla in capo a tutto quanto. Oh, ma solo del lavoro se vede parlà. Se siamo appena torto il sardo dei coglioni, ma non sarà il caso di festeggio. Sto alle cinque di mattina. E tardi pure panna a mignotti. C'è una mezza da già avrei.